gentili telespettatori buona giornata il partitello guidato ormai dal crepuscolare berlusconi avverte la meloni non può dire sempre di no questo dice dicono dalle parti del signor berlusconi è un governo di coalizione guidato dalla meloni che ha il 26 per cento dei voti ma non il 50,1 in una coalizione si possono dire dei no ma si devono anche dire dei sì quindi maurizio gasparri ha parlato in questi termini a tagadà in televisione sulla 7 cosa vuol dire berlusconi ha fatto una serie di proposte come quelle sulla giustizia e sullo sviluppo economico che non sono state accolte gasparri berlusconi voleva la giustizia perché c'è qualche processo in corso voleva lo sviluppo economico perché c'è la delega sulle televisioni e gasparri questo non lo dici berlusconi ha fatto delle proposte e gli hanno detto di no e meno male che gli hanno detto di no se no la meloni avrebbe fatto una figura terribile una figura terribile accedere al signor berlusconi che come sempre cerca solo ed esclusivamente di farsi gli affaracci suoi e poi gasparri in televisione dice adesso si devono fare dei viceministri dei sottosegretari c'è da augurarsi che non si risponda sempre di no cioè questo maurizio gasparri va in televisione a parlare di cose ad personam e di spartizione del potere delle poltrone è andato in televisione a parlare di spartizione di potere non di problemi dell'italia ospite sulla sette parla della spartizione delle poltrone cioè forza italia vuole poltrone posti di lavoro da dare a ai fedelissimi diciamo diciamo così è vergognosa una roba del genere ma è veramente vergognosa a volte meglio neanche dire niente ecco piuttosto ma il richiamo della televisione forte la televisione la fama mi riconoscono sono un vip e poi continua gasparri dice dire dire di sì rientra nell'armonia di governo dire di sì rientra nella spartizione delle potere dell'armonia di governo dire di sì rientra nell'armonia di governo ed è anche una cosa educata eh sì la spartizione del potere è una cosa educata gasparri chi oggi ha vinto si deve ricordare che senza gli altri pezzi anche senza la storia di un leader poi si rischia di compromettere la situazione con chiaro riferimento a silvio berlusconi il suggerimento meglio è stato piuttosto limpido lui dice la sostanza è che berlusconi che ha creato il centrodestra vuole rispetto per il suo ruolo e per la sua storia hai capito se tu fai una coalizione con berlusconi che prende l'otto per cento poi devi valutarlo di più perché lui ha una storia ed è affondato il centrodestra quindi gli devi dare qualche poltrone in più in modo che lui la può dare a qualche fedelissimo che hanno escluso dal senato dal o dalla camera dei deputati che in qualche collegio non è stato eletto allora gli diamo qualche posto di lavoro avete capito tutto il discorso di gasparri no rispetto per berlusconi che ha fondato il centrodestra rispetto per la sua storia dategli delle delle poltrone che deve dare a gente ma è è qualcosa di veramente agghiacciante o no dite di no i tifosi berlusconiani che dicono non è vero non è vero silvio silvio è sì sì silvio l'ha fatto per noi è sceso in politica per noi è sì proprio per me l'ha fatto per te per quell'altro lì dietro l'ha fatto proprio per noi limpidissimo proprio per noi non ci sono dubbi l'ha fatto per noi come diceva cornacchione su rai 3 e poi prosegue i numeri sono quelli che sono ed è ovvio che giorgia miloni debba guidare il governo e debba avere il ruolo preponderante ma nelle coalizioni ci vuole rispetto cioè devi spartire devi dare delle poltrone quello ci vuole rispetto perché altrimenti se uno ottiene sempre dei no si accumulano tensioni qui ci sono due partiti che hanno l'otto per cento e c'è uno sbilanciamento evidente nell'organigramma dice riferendosi alla lega quindi nonostante che questo signore vada a parlare in televisione di spartizione di poltrone alla fine dice ma la lega ce n'ha di più ecco è realmente gasparri ma un politico di lungo corso che va in televisione a parlare di spartizione di poltrone ma dico io ma in questa trasmissione il giornalista non so chi sia che gestisca questa questa trasmissione di tagadà sulla sette ma un giornalista avrebbe dovuto dire scusi lei viene qua allora a parlarmi di spartizione di poltrone che la lega ne ha di più fa una sorta di minaccia al governo perché non ha dato troppe non ha dato giuste poltrone a voi secondo una vostra secondo lei dice visto che berlusconi deve essere rispettato per la sua storia deve avere un più poltrone cioè ma la giornalista o il giornalista doveva rispondergli questo io avrei detto questo quello che vi sto dicendo gliel'avrei detto voglio sentire la risposta di gasparri ma lei sta parlando di spartizione di poltrone di rispetto per berlusconi spartizione di poltrone e la lega ha avuto l'otto per cento e fa capire che ha più poltrone ma veramente lei sta solo pensando alle poltrone ma vi dico io dopo tanti anni in parlamento in un ambiente ovattato lontano dalla gente che ha problemi perché in centro roma ci sono turisti gente coi soldi o turisti naturalmente c'è qualche svantaggiato diciamo così che chiede le lemosina però in centro roma il centro di roma non è lo specchio dell'italia allora io sono stato in giro per il lavoro tantissimo tantissimo con la macchina con i venditori e ho girato delle zone d'italia terribili delle periferie che sono delle cose inquietanti certo non è il centro di roma i palazzi la spartizione delle poltrone ecco io capisco anche che chi ha abituato e fa il politico da tanti anni vive in un mondo parallelo perché non lo accompagnerei io in macchina a fargli vedere alcune realtà e poi dirgli ma vai ancora in televisione allora a parlare di spartizione di problemi o vai a parlare di qualcos'altro ecco perché se fosse stata la conduttrice o il conduttore televisivo che gli chiedeva della spartizione io se fossi stato al posto di gasparri avrei detto no guardi non me non mi chieda di spartizione delle poltrone perché la politica non è questo noi siamo dei rappresentanti popolari siamo io vorrei parlare con lei di di problemi di soluzioni non mi chieda di spartizione di poltrone quello quello che sarà sarà non mi interessa questo avrebbe dovuto dire un gasparri non andare in televisione a minacciare il governo dicendo è se tiri troppo la corda spartizione mamma mia veramente non c'è limite a queste cose qua non bisognerebbe però neanche più stupirsi realmente come faccio io grazie a tutti e arrivederci a presto a presto